Volevo salutare la direzione di un nuovo portale per quanto riguarda la musica da ballo Liscio.1 Signori, lì ci sono, troverete aggiornate tutte le serate delle varie orchestra, dei vari gruppi musicali i programmini, i contatti con gli impresari, con le gestioni quindi veramente uno spazio tutto nuovo per quanto riguarda la musica da ballo vi invito ad andare a guardare su internet www.liscio.1 Signori, fatelo perché ci sono veramente tante cose aggiornate, tante belle curiosità da soddisfare vogliamo dedicare a voi carissimi amici questo brano che fa parte del mio nuovo cd nuova, eccolo qui, al ritmo di cumbia m Non trova dubbià, al desto del deserto d'ocello Oggi è stato solo a mia mancunia E cambiarono solo a seguito